Questa mattina un protocollo d'intesa tra il comune di Torre del Greco e la sovrintendenza archeologica di Pompei per la riqualificazione dell'area archeologica di Villa Sora. Anche Torre del Greco avrà una sua identità e dignità archeologica. Oggi è un giorno bellissimo, proprio perché per quello che ha detto lei, Villa Sora è uno, è un sito importante, è un sito che sta dietro di me, dietro al quadro come potete vedere ed è una villa romana importante del primo secolo che ha subito il 79 d.C. la famosa esplosione che però diventa appunto di riferimento turistico della nostra città e non solo della nostra città ma dell'intero Interland e osiate dire anche ovviamente in tutta Italia. Oneri ed onori per l'amministrazione e per la sovrintendenza, in concreto che cosa prevede il protocollo? Allora intanto prevede che insieme si lavori per un unico obiettivo, poi noi abbiamo dei progetti che abbiamo presentato anche al progetto Grande Pompei, abbiamo avuto un incontro con il generale Capasso, insomma stiamo lavorando in sinergia con loro per i finanziamenti che speriamo insomma di ottenere ovviamente, so così anche la sovrintendenza ma sarà ovviamente il parco archeologico, saranno dole a dirlo e ovvio che queste scelte comportano una serie di oneri e comportano una serie diciamo di lavoro ma noi siamo qui apposta per lavorare per la città e vogliamo fortemente che questo villasora, questo parco di villasora riesca ad essere un punto di attrazione mondiale per Torre del Greco. Quale sarà il destino e la sorte di villasora? Il destino e la sorte di villasora sicuramente nel prossimo futuro sarà quello di essere restaurata, di essere anche scavata, di ampliare gli scavi e di avere una sua accessibilità. dopodiché abbiamo da condividere una visione e questa visione noi la vogliamo costruire insieme alla comunità, questa è la novità di oggi che parte da oggi, noi costruiremo il futuro di villasora insieme alla comunità locale, è l'unico modo per poter garantire un futuro sostenibile.